San Pietro non aveva un conto in banca e quando ha dovuto pagare le tasse, il Signore lo ha mandato in mare a pescare i pesce. In una sequenza che ogni giorno davvero riserva sorprese, è la frase che più ha colpito, e subito usata dai giornalisti per i loro titoli, nell'omelia che Papa Francesco ha tenuto oggi in Santa Marta a Roma, celebrando per sacerdoti e collaboratori della Congregazione per la Dottrina della Fede. Un discorso nel quale ancora una volta lasciare stupiti, stupore che traspare pienamente nel rievo nuovamente dato in giornata al Papa nei titoli delle scienze di stampa, sono la semplicità e la radicalità dell'interpretazione del cristianesimo annunciata, dove il contenuto, certo non inedito, sembra trovare da un lato nuova linfa appunto nelle parole con le quali è detto la semplicità, e di rompenza nell'attenzione verrebbe da dire nella sete con la quale è accolto. Gratuitamente è stata dunque la parola chiave individuata dal Papa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, ha detto il Santo Padre, aggiungendo che tutto è grazia, e quando noi vogliamo fare in una modalità dove la grazia viene un po' lasciata da parte, il Vangelo non ha efficacia. Ne consegue, per Papa Francesco, che la predicazione evangelica nasce dalla gratuità, dallo stupore della salvezza che viene, e quello che io ho ricevuto gratuitamente, devo darlo gratuitamente. Le implicazioni le ha chiarite, e subito dopo, nel suo linguaggio così sommesso e così potente, lo stesso Papa. Il Regno di Dio, ha dunque detto, è un dono gratuito, aggiungendo che essendo alle origini della comunità cristiana, questo atteggiamento è stato soggetto a tentazione, la tentazione di cercare la forza altrove che nella gratuità del Vangelo, che si è tradotta nel trasformare l'annuncio in proselitismo. Citando ancora una volta Benedetto XVI, ha dunque sottolineato che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione, e che questa deriva dalla testimonianza di quelli che dalla gratuità annunziano la gratuità della salvezza. E tutto questo da cosa si riconosce? Prima di tutto dalla povertà. In una frase che in poche parole illumina tutta l'alterità del cristianesimo rispetto allo spirito del mondo, o se si preferisce all'ideologia che sembra apparentemente dominarlo, il Papa ha quindi detto, l'annuncio del Vangelo deve andare per la strada della povertà. Con apostoli che vogliono fare una Chiesa ricca, la Chiesa invecchia. La Chiesa diventa una Ong, la Chiesa non ha vita, ha concluso.